Ben tornati con Yooka-Laylee, io sono da FDL e l'ultima volta abbiamo ottenuto il Moleculus per Dr. Paz e poi abbiamo giocato a uno stupido minigioco di golf e oggi cosa faremo? Parleremo col Dr. Paz e ci trasformeremo in qualcosa, vedremo in cosa ci trasformeremo, ovviamente io me lo ricordo ma non ve lo dico, parliamo col Dr. Paz, vai! Grazie Ok, come vedete la piattaforma è sull'acqua, premiamo A e trasformiamoci. Allora, Y, X e A. X spara col cannone. Y spara ghiaccio. A spara fuoco. Ok, quindi queste meteore qua credo che si distruggano col fuoco. Perfetto. Queste con X. Ok, perfetto. Prendiamo anche le piume dato che ci siamo. E questa nave? Credo che sia tipo identica alla nave che c'era all'inizio del gioco, ecco. Non mi ricordo come si chiama quell'area. Va bene. Comunque abbiamo incorporato ghiaccio, fuoco e bombe. Quindi è una cosa fantastica. Ok, perfetto. E possiamo anche accelerare con B in modo da andare leggermente più veloci. Ed è per questo che il gioco è... che questo livello è disseminato di queste meteore. Perché sono le meteore che si possono distruggere con la nave. Ecco appunto. Distruggiamole tutte. Non andiamo sulla terraferma. No, queste si distruggono col fuoco che è A. Ok, perfetto. Sì, si rimpiccioliscono. Per qualche assurdo motivo. Acceleriamo e andiamo da questa parte. Vai. Ci sono delle piume qua anche da prendere. Prendiamole, perché no? Ok. Piuma. Altra piuma. E altra piuma. Ah, e comunque siamo su una nave spaziale. Eh, l'avete capita. Eh. Vado a spararmi dopo questa battuta. Va bene, andiamo avanti. Posso entrare in qualche modo? O mi è completamente precluso? Credo che mi è... Che mi è? Credo che mi sia completamente precluso. A meno che non posso... No. Non il fuoco. Le bombe. Oh, posso sparare là in fondo. Ok, va bene. Posso distruggere le meteore lo stesso da qua. Ecco, di fatti credo che sia quello che dobbiamo fare effettivamente. Ok. Distruggiamole tutte, mi raccomando. E poi mi sa che ci devo tornare da... Senza la nave, credo. Ok, distrutte. E per entrare con la nave lì dentro... Credo di dover fare robe assurde, quindi... E quindi tornare qua senza la nave, va bene. Faccio velocemente... Anzi, facciamo una cosa. Tagliamo quei palloncini. Distruggiamo tutti quei palloncini. Non lo posso fare da qua. Ok. Premiamo A e distruggiamo queste due meteore. Va bene. Ok, prendiamo intanto la piuma e l'altra piuma e con A sciogliamo questo ghiaccio. Andiamo magari da questa parte intanto. E sciogliamo queste meteore. Faccio un po' tutto quello che devo fare con la nave poi. Poi tornerò lì senza la nave per aprire il cancello. E poi dovrò ritornarci di nuovo con la nave. Sì, devo fare tutta quella trafila lì. Distruggi anche quel coso. Ok. Questa non doveva succedere, credo. Qua dentro mi sa di boss questa cosa. Quindi non ci entro per adesso. Andiamo a fare tutto quello che dobbiamo fare con la nave. E lì c'è uno scriptoplasma. Ok. Allora. Siamo qua, se evito il tubo. Qua buttiamoci giù. Perfetto. E prendiamo questa page. Qua buttiamoci. Sì, 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 sì. Mmm, è stata sparsa in cielo. Oggetti volanti sospetti. Ehm, credo si riferisca a questi palloncini qua. Che posso, adesso mi ricordo, è anche una piuma, sì, una piuma, una page molto molto odiosa che ho già fatto anche. Questi palloncini si possono distruggere con X. Giriamo la tele... My god, la telecamera in volo è una cosa micidiale. È una cosa micidiale. Vai, perfetto. Si distrugge e c'è un pezzo di page dentro. Perfetto. E prendiamo un pezzo di page. Ce ne sono tre in totale. Andiamo avanti. Perfetto, mi è finita la magia. Tu crepa. Ehm, evita di cadere, please. Eh, ok. Va bene. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Perfetto, ho distrutto il palloncino e non c'era dentro assolutamente niente. E vai. E vai. Allora ci sono questi palloncini qua da far fuori. C'è da far fuori, da distruggere. Oh my god, la telecamera in volo in questo gioco. E sono finito qua in mezzo ai nemici. Perfetto. Perfetto. Proprio quello che volevo. Crepa. La telecam... Sto... Sto... Sto avendo problemi per la telecamera, eh. Ok. Prendi il pezzo di page e non farti uccidere dal tizio. E non ho trovato l'altro scrigno. L'avevo visto in lontananza, ma credo di averlo appena perso. Eccolo là. Eccolo là. Vai. Vai, veloce. Dai, prima che ti finisca il volo. Ok. Vai, vai, vai. Prima che ti finisca il volo, please. Non crepare, eh. No, eh. Oh, bisogno di farfalle. La telecamera in volo. Ok. Adesso scendiamo pian piano. Non buttiamoci. Scendiamo così. Perfetto. Adesso buttiamoci. Yes. E preso il terzo pezzo. Torniamo dalla page. No, non mi attaccate da fuori schermo. Ve lo impedisco. Ok. Crepa anche tu. Perfetto. Parliamo col pezzo di page. Ok. E vai. Prendiamo il pezzo di page. Prendiamo anche una farfalla. Dato che ci siamo. Andiamo là in fondo. Ho visto che ci sono piume anche qua sopra. Perché non le ho viste prima. Ok. Scendiamo e prendiamo queste piume. Ok. Piume a due. Ce n'era una terza qua. Ok. Sti salti alla cieca saranno la mia rovina. Ok. Allora saliamo qua sopra. e qua c'è. C'è lo scritto plasma blu. Ok. Così a caso. Va bene. C'è non mi lamento eh. No, 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 no. Non creparci. Oh, non dovevo. Andiamo a prendere la nave. Non serviva andarci qua a piedi. Allora, eccoci qua. Spariamo con Ypsilon al pulsante. Colpito? E vai. Adesso possiamo finalmente entrare qua dentro. Sempre se la telecamera vuole collaborare. Qua dentro e vai. Sciogliamo la meteora là dentro. No, non si può fare da questo lato. Si può fare da dietro. O dal fianco. Perfetto. Sciolta la meteora. Ok. Adesso prendiamo queste piume. Dato che ci siamo. E qua dentro? Cosa si può fare qua dentro? Ah, 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 ah. Visto. Visto. Perfetto. E abbiamo preso la page. E vai. E vai. Possiamo andarcene. Cioè, almeno andarcene da questo posto. Poi c'è altra roba da fare. Tipo, vedo un sacco di meteore là in fondo. Un sacco di meteore. C'è una qua. C'era lo scriptoplasma verde da qualche parte. Eccolo lì. Andiamo subito a prenderlo. Vediamo magari di... No. Fatti prendere. Fatti prendere. No, fatti prendere. Oh my god. Preso. E vai. E ne manca solo uno. Che non so minimamente dov'è. Ecco qua. Perfetto. Ah, nella zona del robot c'era... C'erano delle meteore da far fuori, vero? Da far fuori. Perché dico da far fuori? Sono da distruggere. Ecco. Perfetto. Da questa parte ci sono meteore. Sì. Quindi distruggiamole. Vai. E là è la zona del robot. Adesso ci vado. Prima distruggiamo tutte queste. Perfetto. Non c'era assolutamente niente. 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 Credo di aver appena perso Perché c'ho tipo Una, no, non è vero Non ho una farfalla No Usiamo Y Perfetto Adesso qua dobbiamo andare un pelino più vicini Ok, solo per il ghiaccio bisogna andare un pelino vicini Vai, colpiscila Ok, perfetto Colpisci E vai, ce l'abbiamo fatta Ok, adesso si può lanciare da lontano Ok, colpito Evitiamo tutti i meteoriti Non so dove arrivano Non si vede dove arrivano Ecco uno Due Tre Quattro Cinque Ok Ok, adesso colpiamo bene Dritto Oh my god Via Yes Ne manca solo uno Vai, colpiscilo da lontano Perfetto Colpito Il ghiaccio è Credo il più problematico Perché bisogna colpirlo davvero da vicino Però una volta colpita una vescica Basta Avvicinarsi alle altre C'è una vescica Un cratere Basta avvicinarsi agli altri E il problema Non si pone Però c'è Ci sono le meteore Ok, perfetto Adesso l'ultimo L'ultimo è il più semplice Il fuoco è il più semplice Perché il ghiaccio spare ad area Ok, vai così No, colpisci Colpisci E vai Ce l'abbiamo fatto Oh no Le meteore Evitiamole Dai Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ehm Cosa succede? Seconda fase Oh my god Oh no Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Oh my god Vai E Mi sono fatto colpire Vai E colpiscila Vai E ce l'abbiamo fatta Credo E abbiamo un'altra page Perfetto Ok Abbiamo tipo distrutto Un'altra volta Un pianeta Anche se non era questo Che volevo fare E volevo andare Nella zona del robot Perché nella zona del robot C'era roba Da distruggere con la nave Era tipo qua dietro Vero O sbaglio Ecco qua Ecco qua Ecco qua La roba E lì dentro c'è E ce l'abbiamo fatta Ok Ci siamo Ehm Siamo riusciti A Ehm A non morire Ecco Entriamo qua dentro Con una sola farfalla E' un rischio E' un rischio Però Va bene Va bene così Però ci sono I cosi Ooooo Aaaaa Ma è rompo Vai Yes Attiviamola solo Quando c'è La cosa rossa sopra Prendiamo le farfalle E le piume Vai 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 Attiva Ok Perfetto Andiamo avanti Piuma Riattiviamola Vai Yes Ce l'abbiamo fatta Piuma Le due farfalle E siamo usciti Voi Morite tutti Facciamo così Ok Così abbiamo Ucciso un po' tutti Crepa C'è roba C'è roba qua Qua dentro C'è una piuma C'è roba Qua dentro Intanto c'è Questa Questa altra piuma E qua il gioco Fischia Fischia per le piume 133 su 200 No Non fischia per le piume È un po' presto Per fischiare Per le piume Mangiala la farfalla Ok Entriamo qua Capito Sono instant kill Questi cosi E io che ne sapevo Proviamo a volare Qua sopra Non devi salire Devi saltarci oltre Molto semplice No Non si può andare più in su Di così Ok va bene Prendi le tre piume Vai Qua dentro Yes No Fischiava qua dentro Qua c'è solo una page Beh solo Oh Abbiamo spento la caverna Qua c'è solo 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 Sì Esattamente Le page avrebbero potuto scivolare Tranquillamente tra le sbarre E si vedeva Allora Adesso Aspettiamo un attimo il buco Entriamo qua dentro E voliamo E voliamo E qua c'è il Il potenziamento energia Ecco qua perfetto Era solo quello che fischiava Ok Mo' per uscire Mo' per uscire devo aspettare di nuovo il buco Vero Eccoci qua perfetto Andiamo avanti Siamo arrivati Ok Ok No Non buttarti giù Hai tutta la vita davanti Ok Quante farfalle ho? Come si fa a vedere? Così Ne ho abbastanza Sono a vita piena Tra virgolette vita piena E qua sotto il gioco fischia E immagino benissimo che cosa c'è Non me lo sono immaginato Il gioco fischiava No Non fischiava Ho sentito un rumore strano Pensavo che fosse il gioco Vabbè Fa niente Allora la prossima volta Vediamo cosa fare Non saprei Vabbè Vedo la prossima volta Per adesso torno Sapete dove? Sapete dove? Qua In questa zona qua Così a caso E la prossima volta Vedremo Cosa fare E come comportarci di conseguenza Con le prossime page Vediamo quante ne mancano intanto Ne mancano 9 Solo 9 Wow Sì Le prenderemo Non credo tutte Ma assolutamente no Ne prenderemo 3 o 4 Il gioco durerà ancora tipo Tipo 5-6 parti Ancora Perché Prima di andare dal boss finale Giustamente Voglio Finire Questo Questo mondo al 100% Poi Andremo dal boss finale E Poi gli extra Ce ne sarà Uno Credo Poi vedrò Va bene Comunque per adesso Giriamoci verso la telecamera Di nuovo E spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Commentate E seguite la mia let's play Noi ci vediamo La prossima volta Con Yooka Leili Ciao Nei fail precedenti Adesso serve il fuoco Sì Se non era ovvio Cos'è questa roba Cos'è questa roba Cos'è questa roba È morte Perché siamo in un videogioco No è Y Oh my god Sto morendo No Lo devo fare adesso Siamo arrivati qua Voglio farlo il boss Cos'è questa roba Cosa è una roba Non è una roba Che riesco